In esclusiva per Arezzo Channel la TV Amaranto, siamo con il presidente dell'Arezzo Mauro Ferretti a commentare questo anno in Amaranto, quindi direi che possiamo anche subito iniziare con le prime domande direttamente al presidente Ferretti. Presidente innanzitutto ben trovato. Grazie. Siamo qui a commentare un anno di presidenza con l'Arezzo. Le prime parole che le vengono in mente. Forza Arezzo. Forza Arezzo. Ma per commentare questo anno un paio di aggettivi. Entusiasmante e duro. Duro nel senso che non è stata una passeggiata. E non lo sarà forse nemmeno in futuro. Non è mai una passeggiata. Purtroppo questo è un destino che mi accompagna sempre. Andiamo un attimo però anche nella parte personale perché tanti non la conoscono. Comunque vorrebbero sapere di più. Chi è Mauro Ferretti? Bella domanda. Mauro Ferretti è un imprenditore che ha cercato e cerca sempre di fare le cose al meglio. Forse un po' perfezionista. Forse è abituato anche a vincere. Quindi le sconfitte mi pesano sempre molto. Però insomma diciamo sono come una persona che è stata sempre sugli specchi. Molte volte gli specchi non hanno appigli però io risalgo sempre. E questo mi dà la forza per andare avanti. Del suo gruppo, ne parla spesso, della Global Service, vuole portare anche il modello che ha nelle solite aziende anche in questa che, insomma parliamo di calcio, quindi è anche molto differente dalle altre. Certo. Come avete visto, vivendo un anno ormai insieme, l'impronta è quello dell'azienda perché secondo me intanto la vita di un'azienda poi o parla di calcio o parla di altro, deve essere sempre inquadrato in un modo regolare con dei collaboratori che ti seguono e che ti sanno dare anche i giusti consigli. Quindi il modello azienda per me è vincolante. Credo, sono sicuro, che tutti i collaboratori abbiano capito questo. E sono molto soddisfatto perché vedo che sono seguito, consigliato e quindi mi piace il gruppo. 9 gennaio 2013, credo che sia una data per certi versi storica per lei. Sì. Dunque, prima di tutto perché è il compleanno di mia moglie. E quindi io, non so se gli ho fatto cosa gradita o meno, ho preso l'Arezzo. E quindi è una data molto importante. E siccome credo nella fatalità di certi eventi, guarda caso, noi l'atto ufficiale, un appuntamento che non ho preso io ma ha preso l'ex presidente, il notaio ce l'ha dato proprio il 9 gennaio. E secondo me quello è stato un buon segno. Come era cito sua moglie? Bene, bene. È abituata alle mie pazzie, è super collaudata e quindi ha la pelle dura, ha reagito bene, non si è meravigliato. Cosa sente quando vede sua moglie ti fare molto in tribuna? Cerco di frenarla un po', però non mi ha stupito assolutamente e mi sprona in continuazione a fare meglio e a pretendere sempre di più. E quindi è una buona vitamina per questo. Cosa si ricorda del suo primo giorno in visita allo stadio? Ci sono le foto che è arrivato? In visita allo stadio? No, mi ricordo molto bene. Intanto mi ricordo l'accoglienza dei tifosi che mi fece molto molto piacere. Lo stadio mi ha colpito perché anche se non è in ottime condizioni, però è, diciamo, in questa serie, ora che dopo un anno che abbiamo girato nelle trasferte, eccetera, è l'unica vera struttura che esiste. perché siamo andati in certi campi, come ben sapete, che, insomma, lasciano molto a desiderare, con giocatori che si fanno male perché il campo non è d'erba, è di terra, zolle che salta, insomma, diciamo che Arezzo è un po' il salotto. Ho capito la responsabilità che mi stavo prendendo perché rispetto agli stati che, insomma, occasionalmente avevo visto in questa serie, in questa categoria, l'Arezzo è ben diverso. Il suo rapporto con il calcio prima di essere presidente dell'Arezzo e dopo questi 365 giorni? Quanto è cambiato? È cambiato? È sempre lo stesso? No, è cambiato moltissimo. Perché prima il calcio, diciamo, lo seguivo come... non come lo seguiamo tutti, perché gli italiani sono tutti direttori tecnici, direttori sportivi, tutti mister, basta andare lunedì in un bar, no? Si sente di tutto. Io no perché conosco i miei limiti, quindi non sono un tecnico, però mi piace il calcio, mi piace vedere una bella partita, se è brutta, ma annoio, quindi diciamo che l'Arezzo, invece, mi ha tirato fuori la passione. Comincio anch'io a dire la mia il lunedì in qualche bar. Cosa rappresenta il calcio per lei e in questo anno cosa ha rappresentato l'Arezzo per lei? Beh, l'Arezzo ha rappresentato molto perché è una bella sfida. Non mi aspettavo, mi aspettavo che era dura, però non mi aspettavo che era così dura. Però questo, diciamo, mi aiuta, mi aiuta a vincere questa battaglia nella quale sono fiducioso. Cosa ha trovato ad Arezzo che non si aspettava? Quindi favorevolmente stupito o anche negativamente? Qualcosa che l'ha stupita in positivo o in negativo? No, ma stupito in positivo il grande tifo che c'è, perché abituato nelle grandi città diciamo ce ne sono tante di squadre che giocano in Serie D o in eccellenze. C'è il tifo, ma non certo come l'Arezzo. E questo è uno dei motivi per cui ho sempre detto che questa serie non è per l'Arezzo. Ha parlato di tifosi. Qual è il suo rapporto con il tifo Amaranto? Dunque, i tifosi aretini, possiamo dire aretini, no? Sono molto, molto esigenti. Questo da una parte mi fa piacere. Da un'altra parte, alcune volte mi trovo un po' in difficoltà perché hanno un grande spirito di critica. quindi essendo molto esigenti vorrebbero che tutto funzionasse come al 100%. La vita in tutti i settori e anche nella vita privata purtroppo non è così. Noi cerchiamo tutti di far funzionare al 100% le cose ma poi ci si mettono tante storie che non vanno come noi vorremmo. Però una critica ce l'ho da fare con tutto il rispetto degli aretini. Io trovo che siano da quello che leggo troppo pessimisti. E poi quando si leggono queste cose c'è sempre scritto no ma io non voglio gufare però il pessimismo come dire, porta al gufaggio, no? Cioè, uno che è sempre pessimista e vede tutto nero alla fine le cose diventano nere. Allora, bisogna credere in quello che si fa perché se non ci crediamo noi la battaglia è persa. Cosa vorrebbe dire magari al tifoso che la sta guardando per convincerla a credere in questo progetto quindi? Perché evidentemente dopo questo discorso che ha fatto lei non tutti, secondo lei, credono di essere sulla stessa barca invece? Allora, io non è che vorrei dire io ho detto perché ho avuto un incontro forse non lo sa nessuno ho avuto un incontro con la tifoseria quella vera dove li ringrazio pubblicamente che mi hanno accolto molto bene gente molto educata e molto rispettosa e con lo stesso rispetto e stessa educazione mi hanno detto quello che loro pensavano quello che loro non sono d'accordo con il mio pensiero. quindi loro sanno come la penso io noi abbiamo cominciato un percorso ora certo nessuno di noi è portato per il suicidio almeno io non davvero però credo in tutta la squadra diciamo squadra intendo non solo i giocatori il team che è stato creato nell'affiatamento che oggi c'è e quindi credo in questo progetto e lo riconfermo di nuovo certo come ho detto Pocanzi non sono dedito al suicidio quindi chi mi sta vicino come fino a oggi tutti quanti mi hanno dato delle risposte oggi pretendo delle risposte ancora più certe si è pentito di aver fatto e detto alcune cose nelle varie conferenze stampa in cui si è presentato? assolutamente no quello che ho detto lo penso ancora abbiamo parlato del suo approccio con le conferenze stampa però ultimamente ha avuto anche un altro approccio quello diretto con il campo è andato in panchiera sì come definirebbe questa sua esperienza? bellissima esperienza e la partita si vede sicuramente molto meglio in tribuna intanto perché c'è il mister c'è l'allenatore in seconda che stanno sempre in piedi quindi metà campo è sempre offuscata e comunque è molto bella perché la senti proprio sulla pelle insomma è come stai là stai là con loro quindi vedi anche tante cose che dalla tribuna non si vedono quindi è un'ottima esperienza direi che ora possiamo anche un attimino parlare dei vari rapporti suoi con le figure che ci sono anche che ci sono che sono presenti ad Arezzo partirei ovviamente dalle istituzioni quindi un piccolo anche excursus di come il comune o comunque le varie istituzioni a cui si è presentato l'hanno accolta e magari anche qualche aggettivo o qualche digressione no diciamo che le autorità mi hanno accolto molto bene il primo incontro fu col sindaco è stato un incontro cordiale ma non è certo che abbiamo parlato di cose fattibili che mi sarebbe piaciuto nel tempo poi elaborare il rapporto il rapporto molto costruttivo è nato con l'assessore allo sport con Romizzi perché prima di tutto è giovane a me piace piace stare con i giovani mi fanno sentire un po' giovane anche a me quindi forse è quello però è una persona che gli piace lo sport vedo che veramente salta da una manifestazione all'altra quando ci sono a Arezzo perché ama lo sport come proprio sport quindi li abbraccia un po' tutti è una persona semplice però molto fattiva nel senso che se gli presenti un progetto è interessato ti segue e ha piacere che se può dare una mano per portarla a termine lo fa con grande piacere quindi diciamo che il rapporto per me con le autorità comunali è positivo mi è venuto in mente mentre parlava appunto di giovani lei a giugno ha deciso di rifondare fare una piccola rifondazione anche a livello di organigramma puntando molto sui giovani pentito o soddisfatto? Soddisfatto e assolutamente non pentito perché non vorrei fare una polemica sul paese Italia ma io ero ragazzo oggi vado al ristorante mia moglie è testimone e incontriamo ancora i politici di quando io ero ragazzo questa è una cosa che mi terrorizza come cittadino italiano mi lascia molto molto perplesso quindi benvenga che arrivano i giovani perché c'è un altro entusiasmo altre idee un'altra forza fisica è tutta un'altra storia e io spero con l'Arezzo di fare qualcosa di buono come ci siamo prefissati ma se questo fino a oggi quello che abbiamo fatto e se il programma il progetto riuscirà in quello che ci siamo detti tutti devono sapere che questo progetto è stato portato avanti da un gruppo giovane quindi non da me perché da solo non si fa niente io questo è l'input che do anche nelle mie aziende se il gruppo è coeso ci sono giovani di capacità il risultato finale è di tutti e non è di una persona perché ha una carica o perché è il più anziano quindi fiducia massima ha parlato di comune e di progetto viene naturale la domanda sullo stadio cosa vorrebbe spiegare anche ai tifosi perché ancora abbiamo parlato si è sentito parlare di rimettere a posto e a norma lo stadio qual è il suo sogno? Vedere lo stadio come? Vedere lo stadio rifatto però nessuno sa perché io mi sono diciamo un po' per questo che accennavamo prima nel rapporto con le conferenze stampa ho fatto un po' un passo indietro per quanto riguarda le conferenze stampa ma ne abbiamo fatti altri 100 per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio stiamo completando il progetto l'assessore ne è al corrente credo che subito dopo tra l'8 e il 15 massimo siamo venuti e presenterò il progetto la bozza di progetto in base poi ai suggerimenti che ci daranno i tecnici del comune faremo le varianti la proposta è stata già presentata dall'associazione Alconi sta procedendo tutto sta procedendo tutto anche in maniera rapida in maniera rapida in modo tale che a fine campionato si possano iniziare i lavori e c'è una sorpresa che potrebbe riservare ai tifosi uno stadio nuovo rimesso a norma sistemato o è ancora troppo presto? Beh io ho espresso agli architetti la copertura della Minghelli rivedere sicuramente quella tribuna la curva la curva sud Laura Minghelli quindi credo che questo sia un bel successo qualora si arrivasse se ci riusciamo è un bel successo diciamo che è nel progetto parlando di tifosi non si può non parlare del comitato Orgogna Maranto con il presidente Roberto Cucinello dato che comunque c'è stato anche un comunicato un po' di tempo fa appunto del del comitato i rapporti poi alla fine si è fatto si è parlato tanto qualcuno ha anche fatto polemica ma alla fine i rapporti come sono? i rapporti con Roberto sono ottimi del resto lui è anche nel CDA quindi è libero di vedere tutta la documentazione che vuole a disposizione e forse tante volte io mi sono anche scusato per mancanza mia diciamo me la prendo io questa colpa di certe iniziative o certe cose che abbiamo fatto che volevamo fare che non gli sono state comunicate ma purtroppo è perché le cose da fare ogni giorno sono tantissime e qualcosa sfugge però abbiamo avuto modo di parlarne con Roberto mi sono anche scusato di questo non credo che ci siano problemi almeno da parte mia nessuno anche perché insomma penso che sia molto contento anche lei di avere il 2% un azionato popolare vero anche una novità in Italia ancora si stanno muovendo solo i primi passi esattamente quello è il futuro secondo me l'azionato popolare quello è perché ormai più si va avanti mai difficile ci sarà sempre un presidente che farà fronte a tutte le esigenze di una squadra di calcio che sono tante vorrei passare anche all'argomento sponsor nel senso ad Arezzo ha trovato nello sponsor attuale delle maglie quindi la Ciment Brasse Galva mette nella persona di Rolando Nardis e Umberto Paglici forse uno dei pochi veri non aiuto sembra quasi diciamo che non è stata una richiesta di aiuto però hanno creduto nel progetto loro come si sta come definirebbe il rapporto appunto con il main sponsor dell'Arezzo allora come si dice non so se a Arezzo si dice chi si loda si sbroda però se devo essere sincero sono contento che è nato questo rapporto al di là del fatto dello sponsor noi abbiamo trovato degli amici con i quali parliamo forse quotidianamente dei problemi della squadra ci danno il loro supporto lasciamo stare la parte perché è importante per carità economica ma è molto importante anche il supporto morale che ci danno perché come sappiamo abbiamo avuto un momento un po' di defiance ci aspettavamo un po' di più e quindi avere degli amici sinceri che ti stanno vicino e che ti aiutano ad andare avanti oppure che ti aiutano a capire certe situazioni che magari uno un po' più coinvolto non capisce non vede è un'ottima cosa quindi siamo molto contenti di questo e finalmente due aretini doc che ci hanno aiutato nell'Arezzo in una delle prime conferenze stampa proprio riguardo un eventuale partner quindi un eventuale anche sponsorizzazione ha detto io riesco ad andare avanti anche da solo non abbiamo bisogno ci deve essere qualcuno che ha bisogno che voglia credere in questo progetto quante sono state le persone e quindi che anche con delle altre aziende che hanno magari cercato di crederci e poi non hanno non se ne è fatto nulla avrebbe voluto di più di meno è contento così io sono contento così però se vogliamo dire la verità ma le persone di Arezzo che hanno creduto nel nostro progetto sono gli sponsor ufficiali altri aretini io non li ho conosciuti né nessuno mi ha mai telefonato quindi non chiede non chiedo perché pure per dignità di ognuno di noi chiedere perché chiedere chi ci crede e vuole montare sulla barca è benvenuto e chi non ci crede è inutile che ci monta insomma difficilmente ci monterà dopo nella barca? beh certo perché sul carro dei vincitori è facile salire invece sul carro dei vincitori ci deve salire che ha sofferto insieme a noi quella è quasi un obbligo assolutamente cambiamo un attimo argomento restando però sempre vicino alla squadra il settore giovanile qual è la sua idea di settore giovanile per l'Arezzo Calcio ovviamente il settore giovanile da come diciamo mi spiega e ne parlavamo anche poco fa il direttore generale Diomede è molto importante noi crediamo in questo accordo che abbiamo fatto col dottor Zerbini col villaggio Amaranto lo dobbiamo un po' più solidificare più cioè collaborare più con loro e loro con noi in modo che si possa arrivare velocemente a questa matricola unica e da coltivare il settore giovanile e il suo rapporto con Zerbini buono buono ci vediamo poco perché purtroppo o per fortuna lui è molto impegnato anche io poi col fatto che insomma io vivo a Roma non è che mi facilita molto c'è qualche presidente a cui si ispira? no no ho letto tanti bei consigli sulla stampa di ex presidenti dell'Arezzo che non mi conoscono però mi danno dei consigli quindi nessun nessuno da cui prendere nessuno mi ha colpito quindi colpirà se stesso vorrebbe lasciare lei non in pronta la sta lasciando qui ad Arezzo importante mi auguro ma già da ora perché se andiamo a vedere è il presidente dei 90 anni dell'Arezzo e proprio questo mi vorrei ricollegare perché queste estate insomma sono stati oltre alla presentazione della squadra che penso abbia vissuta anche con grande emozione ma poi c'è stata anche la festa per i 90 anni dell'Arezzo cosa vuol dire essere presidente dell'Arezzo per i 90 anni di storia? vuol dire quello che io ho sempre pensato che ho detto prima e lo ridico Arezzo è una piazza importante è una piazza particolare e appunto non merita la serie D perché non è come essere diventati presidenti non voglio far nomi perché se no magari qualche altro presidente si arrabbia o si offende non significa essere presentati presidenti di una di quelle società di cui parlavamo prima che hanno dei campi di terra eccetera eccetera Arezzo è una piazza importante è una piazza storica per il calcio quando si dice Arezzo vedi che l'interlocutore rimane colpito quindi vuol dire che Arezzo ha qualcosa molto di più delle altre piazze c'è qualcosa di cui va particolarmente fiero del suo staff oltre che dello stadio insomma ce l'ha già accennato c'è un qualcosa di cui va fiero per la società West Arezzo vado fiero del nome e dello staff li ringrazio perché sopportarmi poi non è così facile non è bere un bicchiere d'acqua anch'io ho i miei scatti anch'io mi arrabbio anche se maschero molto bene insomma è un bel impegno pure per lo staff passiamo al campo qual è la partita più sofferta da quando lei è presidente se ne ricorda in particolare una in cui pensa di aver sofferto più delle altre allora a malincuore devo dire me ne ricordo tante poi sono emotivo anche se non sembra soffro sempre soffro sempre soffro sempre la cosa che mi diciamo mi fa ancora più soffrire è questi secondi tempi tiratissimi dove noi poi riusciamo per fortuna a esprimere la potenza che abbiamo e quindi riusciamo sempre a recuperare però insomma è una bella sofferta è una bella prova di cuore la partita invece più bella? quella in cui è stato veramente orgoglioso di essere il presidente è stata col Siena che è nata per gioco e invece è stata una gran bella partita parlando dei giocatori c'è un giocatore a cui si è affezionato particolarmente? o preferisce non fare nomi non dire? no non preferisco non fare nomi fare nomi non è carino però onestamente sinceramente non c'è io amo tutta la squadra non c'è uno in particolare sì magari c'è uno più spigliato uno un po' più timido un troverso ma non è quello perché poi vedo che quando devono dare insomma faticano faticano quando rientrano le magliette sono bagnate quello è importante al vertice della società c'è lei presidente appena sotto c'è Enrico De Martino qual è il vostro rapporto e come dove è nato insomma nasce diversi anni fa per motivi di lavoro e poi nel tempo siamo diventati amici collaboriamo in tante perché sapete il lavoro che fa De Martino quindi io ho contatti continui sempre per motivi di lavoro e di dipendenti con i sindacati diciamo che con Enrico è uno di quelli con cui ci si può parlare presentare le problematiche che ci sono e non con aggressione come tanti suoi colleghi quindi da lì è nato un po' il rapporto di stima reciproca e poi siamo diventati amici le famiglie si sono conosciute la vita diciamo che è molto operativo anche è un po' il sobraccio quando lei non riesce magari a seguire tutto quello che vorrebbe sì è molto operativo molto operativo abituato a lavorare alzarsi alle 5 alla mattina e questo già è una grande cosa torniamo anche alla squadra cosa ha significato anzi alla squadra diciamo ai tifosi alla squadra cosa ha significato superare i 1500 abbonamenti un risultato che ci sono anche delle squadre a livelli professionisti professionistici tra C1 e B che fanno fatica ad arrivarci cosa ha sentito noi credo che siamo arrivati a 3000 presenze presenze ha significato moltissimo perché una delle impressioni negative che io ho condiviso con mia moglie che è una delle primissime partite che siamo entrati ci siamo guardati e abbiamo visto che c'erano 200-300 persone lo stadio vuoto insomma è un po' non è una bella cosa no? è come un teatro dove non c'è il pubblico quindi essere arrivati a fare 1500 abbonamenti avere delle presenze di 3000 persone 2500 eccetera è stato un grandissimo traguardo quindi per questo che ha studiato questa campagna abbonamenti molto economica perché poi per avvicinarsi al tifoso per invogliarlo dai 2300 ai 2300 certo per richiamare la gente la gente allo stadio visto che c'è un tifo così caldo il prezzo è stato un prezzo politico e la pubblicità che è stata trovata appunto dall'equip no? crisi 0 Arezzo 1 molto significativa non è per un fattore economico che con l'incasso delle partite si risolvono o si pagano gli stipendi di una squadra come questa la cosa importante è aver riportato la gente allo stadio quindi il prezzo è stato fatto politico studiandolo in modo che non pesasse più di tanto sulle tasche dei tifosi in un momento così lei presidente ascolta anche molto quello che dicono i tifosi anche se qualcuno critica dice non la sentiamo non ci ascolta abbastanza soprattutto anche con sui social network sulla nostra pagina facebook abbiamo chiesto di farle qualche qualche domanda sicuramente non sarà non sarà molto buona diciamo che sarà anche abbastanza cattiva la prima che vado a leggerle di Fabio Tecchi una sola domanda presidente se questa stagione dovesse portare al fallimento dell'obiettivo stagionale e tra parentesi siamo già a buon punto cosa ne sarà di noi a giugno? Allora intanto mi fa piacere che questo tifoso si firma nome e cognome perché l'anonimata è una cosa che a me dà molto fastidio quindi quelli che si chiamano Gabibbo anziché Pulcinella o cose del genere non è che mi piacciono molto per rispondere alla domanda del tifoso io dissi una cosa all'inizio proprio con un giornalista di un network no? che già all'inizio prima di cominciare già faceva la domanda per me questo significa portarsi sfortuna da soli no? sei mesi prima fai la domanda che succede se a giugno ecco allora io per il mio credo per me o vinciamo tutti o affondiamo tutti questo in tutte le mie cose è stato sempre così quindi l'alternativa qual è? vinciamo tutti non c'è non c'è l'alternativa non esiste siamo partiti con un'idea la vita ci ha messo davanti chiamiamo la vita perché nella vita ci sono problemi ben più seri ci ha messo davanti 3.000 ostacoli una buona dose di sfortuna perché ricordiamoci dice Ferretti se la prende con gli arbitri Ferretti non se la prende a massimo rispetto degli arbitri delle autorità però quando una cosa è giusta è giusta basta ripetere certe partite per capire poi come sono andate a finire non siamo mai andati noi a mettere il naso a casa degli altri mentre gli altri vengono a mettere il naso a casa nostra vedi la pistoiese che ha dichiarato che ci danno troppi rigori da quando ha fatto quella dichiarazione non ce ne hanno dato più uno quindi noi abbiamo massimo rispetto mi piacerebbe che anche il prossimo avesse massimo rispetto di noi e al tifoso Fabio Tecchi Fabio Tecchi al signor Fabio Tecchi gli dico che ci crede ci deve credere e a giugno c'è tempo c'è un altro argomento molto immagino importante tra i tifosi prima di quello che sta immaginando ce n'è addirittura un altro e questa la domanda la fa Daniele Dragoni Presidente tornassi indietro farebbe la domanda per il ripescaggio cioè i tifosi si chiedono se possa diventare un un crucio non aver fatto la domanda di ripescaggio bene aver usufruito qui penso ci sia molto da parlare qui ci sarebbe moltissimo da parlare diciamo che però da buon italiano voglio usare il politichese chi è intelligente capirà non ho assolutamente nessun rimorso di non aver usufruito di quella opportunità anche perché l'Arezzo era nell'impossibilità totale di prendere quella opportunità a buon intenditor poche parole è stata una scelta coatta obbligata passiamo alla terza al terzo master delle domande che sono state fatte dai tifosi il suo rapporto e quindi anzi la scelta di mezzanotti di mister mezzanotti obiettivamente c'è stata un po' di polemica rispetto ai tifosi rispetto a questa prosecuzione del rapporto lei l'ha sempre difeso l'allenatore cosa intende cosa vorrebbe dire insomma a chi le chiede e le ha chiesto di fare altre cose quindi di non proseguire su questa strada sì faccio una piccola parentesi perché sulla domanda di prima sull'opportunità che siamo stati costretti a non prendere volevo solo aggiungere una cosa che se l'opportunità ricapita quest'anno la prendiamo e come nessuno e qui parlo anche di mezzanotti tutti hanno criticato criticano il nostro mister a torto ragione non lo so però nessuno dice che noi siamo entrati in semifinali di Coppa Italia è un'altra opportunità per essere ripescati nessuno ne ha mai parlato di questo nessuno ha mai detto niente va bene così allora mettere sull'altare un allenatore e poi mandarlo all'inferno la sera perché ha perso e poi il giorno dopo vince rimetterlo sull'altare questo è un giochetto che a me non piace nessuno di quelli che collaborano con me io non ho mai fatto un trattamento del genere un fatto è certo non intendo suicidarmi da solo la fiducia che ho dato resta però alla fiducia che ho dato e che resta lo ripeto adesso devono seguire i fatti si aspettava i fatti dovranno seguire anche dai giocatori si aspettava qualcosa di più dai suoi uomini dai giocatori mi aspettavo mi aspettavo di più sicuramente perché noi abbiamo fatto questa squadra sulla stampa si dice mezzanotti ha preso ha fatto eccetera allora questa squadra è stata fatta ovviamente da mezzanotti dal direttore generale dal vicepresidente e dall'incompetente che sono io ma ci vuole non molto perché basta andare a vedere i giocatori che noi abbiamo il campionato che hanno fatto l'anno scorso con punte di 25 gol 18 gol non basterebbero 10 campionati se dovessero segnare tutto quello che hanno fatto l'anno scorso allora questo io ho chiesto ai giocatori di dimostrarmi quello che io ho letto su di loro le varie schede e questo io mi aspetto il valore della squadra il valore della squadra c'è e come i sette punti sono tanti ma sono recuperabilissimi e li dobbiamo recuperare oggi vorrei fare un altro ragionamento ai tifosi bene ammazziamo mezzanotti perché quello chiede la piazza è un salto nel buio perché intanto prendi il signore X che anche ha un ottimo curriculum allora deve amalgamarsi con questa squadra sono sempre due o tre mesi che partono così e sono due o tre mesi che forse noi sicuramente noi non ci possiamo permettere si parla sempre della paragone con della piazzogliese Morgia ma non la dicono tutta bene i tifosi perché Morgia l'anno scorso ha cominciato e quindi si è fatto un anno di serie D e quest'anno sta andando forte quindi ha avuto un rodaggio già di diversi mesi con questa squadra e quindi è normale che oggi ha il meglio dalle persone in cui lui ha creduto se noi facessimo un salto nel buio oggi tutto succede nella vita e tutto si può fare però è un bel punto interrogativo quindi il punto interrogativo come il salto nel buio è un punto interrogativo ma quello che ho detto pure prima resta cioè io non si dice non mi faccio karakiri da solo chiaro no ritornando anche ai giovani lei si è affidato e ha avuto anche il coraggio di affidarsi ad un direttore generale molto giovane ma anche molto competente quale pensa che sia stato il percorso anche personale di Daniele Diomede attuale direttore generale dell'Arezzo perché ha vissuto in un momento come tutti del resto però lui di più essendo vicino al management diciamo ufficiale è molto difficile perché la gestione che diciamo della del vecchio gruppo vecchio nel senso buono vivere convivere non è stato facile per le mille situazioni che c'erano e questo quindi è stato un fatto che mi ha fatto pensare che c'era del materiale da tirare fuori è stata una scommessa non sono assolutamente pentito l'ho difeso e lo difendo quando appunto si sono dette cose ingiuste veramente gratuite perché ci sono dei direttori generali o dei direttori tecnici perché ci hanno 50 anni sono validi e perché uno ce ne ha 30 allora non è valido io penso esattamente il contrario perché a 50 anni ci sono anche altri interessi e un giovane che ci crede non ha quegli interessi che potrebbero esserci come del resto abbiamo ho avuto io ho le prove di come è andata la vecchia gestione non a caso mi riferisco a quella conferenza stampa della quale io oggi se prima avevo dei dubbi so tutto quindi larga e giovani benvenga Daniele Diomede diciamo allacciandomi a questo discorso qua ha rischiato di farla disinnamorare un po' nei primi mesi aver trovato una situazione che non era quella che si immaginava? no io non mi sono disamorato perché diciamo nel corso di questi pochi anni che mi hanno preceduto nella mia vita di cose facili io non le ho mai trovate è anche con un pizzico d'orgoglio che dico che vengo dalla strada quindi le difficoltà le conosco molto bene quindi non è facile che io mi demoralizzi non è facile demoralizzarmi ma rabbio ma non mi demoralizzo un'ultima domanda si sente di aver sbagliato qualcosa in questo anno un errore tantissimi ne avrò fatti tantissimi uno dei tanti forse sono le conferenze stampa però chi chi mi conosce forse mi apprezzerà chi non mi conosce gli sarò diventato antipatico comunque di errori certo che ne avrò fatti ora ne ho fatti sì sì e sono stati propedeutici anche a non commetterne più in futuro ah beh certo ci sarebbe diabolico e l'ultima domanda il rapporto con la città di Arezzo perché comunque essere presidente dell'Arezzo Calcio porta ad avere un rapporto ad abbracciare tutta la città delle volte si sente dire che è la città dove verrà vivere quando magari se ne andrà in pensione questo che dice è vero si trova bene quali sono le prerogative le cose che le piacciono di più della città mi trovo benissimo mi trovo benissimo perché è una città tranquilla pulita piena di giovani come dicevamo prima e rispetto a Roma che amo diciamo Arezzo è un paradiso si gira tranquilli la sera cosa che purtroppo non si fa più a Roma ha compiuto un anno quindi intanzitutto auguri presidente a quanti anni vorrebbe arrivare finché il buon Dio mi dà la forza e la salute sto qua poi si vedrà che succede tanti auguri grazie grazie tante grazie a tutti grazie a tutti